partiti in vantaggio lungo la corda Pietro Il Grande nei confronti di Mikai poi Excellent Beyond ancora Special Rush a largo dei primi Lanoso per linee interne Sadova Raized e il resto del gruppo con nelle retrovie Pepparone e Demeteor Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con sempre Pietro Il Grande in vantaggio nei confronti di Mikai segue Special Rush ancora Excellent Beyond Sadova Raized per linee interne poi Svatantra ancora Pepparone e Demeteor Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Pietro Il Grande in vantaggio nei confronti di Mikai quindi Special Rush Excellent Beyond Sadova Raized più a centro pista Lanoso che si trascina Svatantra ancora più all'esterno Demeteor quindi anche Allegro in siamo ora a quattrocento dal palo è passato il leggero vantaggio Mikai nei confronti di Svatantra ancora più a centro pista Allegro più all'esterno anche Pepparone nel tratto conclusivo è passato all'interno Palazzo Pitti attaccato da Pepparone a largo Palazzo Pitti e Pepparone sul palo vicinissimi poi per il terzo posto Sadova Raized e Mikai con vicino Excellent Beyond e Demeteor rivediamo questo bel finale con Pepparone il grigio a largo che viene ad attaccare di forza Palazzo Pitti e probabilmente sul palo prenderà meglio cinque otto vicinissimi sul palo al terzo posto l'uno di Mikai mentre per il quarto è da vedere tra Sadova Raized all'interno e Demeteor a largo theico Grazie Grazie.